Che cosa ne pensi di come ha giocato la squadra vedendo che le tre partite precedenti avete perso, che ne pensi di come ha giocato la squadra? Era importante vincere, magari è stato un buon primo tempo o meno il secondo, però era importante vincere. Era importante vincere, avevamo una buona prima parte, meno in la seconda, ma era importante vincere. Che cosa ne pensi del trattamento dei altri giocatori contro di te con i falli che hai subito? Ci sembrava che durante il secondo tempo ti hanno trattato un po' forte e si è visto un po' la rabbia, la rabbia tua. Ci sono state, secondo me, alcune situazioni dove l'arbitro ha sbagliato, però fa parte del gioco e sarà per la prossima. Non lo so. Ci sono alcune volte in cui credo che i giocatori potrebbero aver fatto male, ma è come il gioco, il gioco, il gioco e il gioco. E vediamo cosa succede la prossima. I giocatori come te, tu ne pensi che c'è bisogno di proteggervi un po' meglio secondo te? No, bisogna essere trattati tutti nella stessa maniera. L'importante è che magari bisogna capire quando cercano il fallo cattivo, cercano sempre di non farti giocare, allora lì è diverso, però bisogna trattare tutti nella solita maniera. No, credo che tutti i giocatori devono essere trattati ugualmente. Credo che ci sono circostanze in cui se un giocatore è fuori intenzionale o se il giocatore è malissimo, dovrebbe essere trattato, ma credo che tutti i giocatori devono essere trattati ugualmente. Credo che il trattamento su di te si sta peggiorando come continua la campana perché i giocatori... C'ho questo presentimento. That's what it feels like. Is he still having fun? Ti stai divertendo? Si. Yes. Nonates... Noates... Enough... Noates... 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 Grazie a tutti